Con Sandra Ploner alla fine della partita, meritatamente vinta contro Ravenna, una partita che ci regala altri tre punti e la lotta verso la promozione continua. Sì, sono molto contenta che abbiamo vinto e sono contenta anche che sono ritornata in un infortunio che sto ripreso finalmente. Come sono state le tue sensazioni in campo? Hai giocato nel secondo tempo, nel secondo tempo noi abbiamo sbloccato e si è riusciti a segnare i nostri due gol. Ma parlaci delle tue sensazioni in campo. Penso che abbiamo dominato tutte le partite, anche nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni, purtroppo non è arrivato il gol, però abbiamo meritato il secondo tempo che arrivasse finalmente ai gol. E adesso si continua con questo ritmo importante che sta tenendo il Parma. È un ritmo, come diceva il mister, di otto vittorie consecutive. Nel girone d'andata ne abbiamo fatte addirittura nove consecutive. L'importante per il mister e per tutti noi è continuare su questa linea. Sì, l'obiettivo è vincere tutte le partite, tutte che sono rimaste e vediamo come va. Sono rimaste quindi cinque partite. Quanta voglia hai di fare gol prima della fine? Tantissimo, tanto sì. Si vede che quando entri cerchi di trovare la porta, di avvicinarti, anche le tue compagne ti cercano. La capacità non ti manca, quindi stai cercando comunque di tirare, di avvicinarti alla porta. Sì, sto cercando di dare tutto quello che ho dentro e aiutare per la squadra. Allora in bocca al lupo. Grazie.